accordo di re minore settima minore quinta bemolle accordo di re semi diminuito vediamo come è composto l'accordo abbiamo sulla seconda corda quinto tasto la nota re che è la tonica abbiamo sulla terza corda sesto tasto la nota la bemolle che rappresenta la quinta bemolle sul quinto tasto quarta corda abbiamo la nota do che rappresenta la settima minore e infine sul sesto tasto quinta corda abbiamo la nota fa che rappresenta la terza minore in questo caso se vogliamo scendere sul basso lo troviamo sul quarto tasto prima corda accordo di re semi diminuito re minore settima minore quinta bemolle re tonica fa terza minore quinta bemolle la bemolle settima minore do